Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Allora, Consulenzia, McKinsey, un altro pezzo della ricerca che hanno proposto, che poi è la continuazione, la realtà, di quella dell'anno scorso, dice che a causa della riduzione dei margini, l'anno prossimo, cioè adesso, questa fine, quest'anno, l'anno prossimo, il 10% dei consulenti attivi ad oggi smetterà di fare questo lavoro, quindi abbandonerà la consulenza finanziaria. Per fare cosa? Non sappiamo, però di fatto smetteranno. Perché? Perché i margini non permettono più di potersi mantenere. O se non smettono loro, li faranno smettere le mandanti, no? Perché già questa operazione è stata, questa epurazione, chiamiamola, questo polgrom è già in atto da un po' di tempo. Ora, come direbbe il mio amico di Roma, se l'acqua è popca, la papera non galleggia, ok? E il problema è che sta papera non è che c'è tante chance. O si mette dentro altra acqua, cioè si va a cercare clientela nuova, in modo che la papera possa galleggiare di nuovo, oppure la papera smetterà di galleggiare. Finito! Cioè non è che c'è altra soluzione. Quindi, oddio, si potrebbe anche pensare alla consulenza indipendente, ok? Tra l'altro io sarò presente al Summit settimana prossima, il 18 e il 19 a Verona, per cui se volete venirmi a trovare vi aspetto. Ora, quindi, sta papera, che si fa? In ogni caso, anche con la consulenza indipendente, se hai quattro clienti in croce, non mangi in ogni caso, no? Per cui, che sia sottomandante, che sia indipendente, sta papera deve continuare a galleggiare, che significa portare dentro clienti nuovi. E come si fa a portare dentro clienti nuovi? Eh, intanto bisogna alzare il sedere dalla sedia, ok? Perché finché stai lì ad aspettare che loro arrivino a te, senza nessuna strategia, perché nel business coaching sono state create delle strategie che portano clienti a te stando seduto, ma bisogna crearle, bisogna creare i presupposti. Se non hai fatto niente di tutto ciò, e stai seduto e aspetti che arrivi qualcuno a mettere acqua dentro la tua vasca da bagno dove galleggia la papera, beh, allora hai sbagliato a capire. Bisogna che sia tu a trovare l'acqua da mettere dentro la tua vasca per far galleggiare la papera. Ok, quindi, la condizione di un 10% di consulenti finanziari sarà quella di cambiare o mestiere oppure passare alla consulenza indipendente. Quindi invito tutti questi, per esempio, a fare un giro al summit Fionli di settimana prossima a Verona, tanto per venire a sentire che opportunità ci sono. Ma anche lì, ripeto, non è che ti cambia la vita, ti cambia la vita se hai portafoglio. Se non hai portafoglio puoi essere anche indipendente, ma se è indipendente dal nulla. Ok, quindi, la cosa importante è avere una strategia. Ok? Oggi è giovedì? Ok, ancora domani. Poi settimana prossima ci vediamo e poi farò le dirette direttamente dal summit, perché ho uno stand, quindi venite a trovarmi. Ok? E se non galleggio la papera mettici l'acqua. Mettici l'acqua. Prima di decidere di smettere di far nuotare la papera, vedi in giro se per caso c'è la possibilità di aggiungere acqua. Ok? E se non sai come fare, alza il telefono. Qui le strategie le creiamo ogni giorno. Ok? Per centinaia di consulenti. Ciao! A domani!